Buon pomeriggio a tutti e grazie. Nel 1982, in quella famosissima intervista che Berlinguer rilasciò a Scalfari, Berlinguer disse che i partiti hanno occupato lo Stato, tutte le istituzioni a partire dal Governo, hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI, alcuni grandi giornali. Berlinguer parlava della partitocrazia che ha occupato qualsiasi cosa. Oggi assistiamo ad un fenomeno nuovo di Governo che è appunto la bancocrazia, che è anche molto più pericolosa perché i partiti perlomeno un tempo avevano i loro militanti che controllavano, mentre le banche questa base non ce l'hanno. Per qualcuno il movimento esagera. Allora facciamo i nomi. Manuel Barroso, ex Presidente della Commissione Europea, oggi è Presidente e Advisor di Goldman Sachs. Mario Monti, ex Presidente del Consiglio e membro della Commissione Europea, dal 2005 al 2011 è stato International Advisor di Goldman Sachs. Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio due volte, ex Presidente della Commissione Europea, dal 1990 al 1993 è stato in Goldman Sachs e poi è stato Presidente dell'International Advisor Board di Unicredit, successore di Giuliano Amato. Quello amato che chiedeva ad MPS il prestito, anzi il finanziamento per il torneo di tennis del circolo Radical Chic di Orbetello, di cui lui era Presidente. Gianni Letta, ex Sottosegretario alla Presenza del Consiglio, potentissimo braccio destro di Silvio Berlusconi, è stato Advisor di Goldman Sachs. Mario Draghi, ex Governatore della Banca d'Italia, ex Direttore Generale del Tesoro, Presidente della BCE, dal 2002 al 2005 è stato Advisor, Vice Presidente e Direttore di Goldman Sachs. Giuliano Amato, quello del circolo tennis di Orbetello, ex Ministro del Tesoro, ex Presidente del Consiglio e attuale giudice della Corte Costituzionale, fino al 2014 è stato Presidente dell'International Advisor Board di Unicredit e Advisor della Deutsche Bank. Augusto Fantozzi, ex Ministro delle Finanze, dal 2008 al 2013 è stato Advisor della Banca d'Affari LASAR. Domenico Siniscalco, ex Direttore Generale del Tesoro, ex Ministro dell'Economia nel Governo Berlusconi, nel 2006 diventa Vice Presidente di Morgan Stanley. Vittorio Grilli, ex Direttore Generale del Tesoro, ex Vice Ministro e poi Ministro dell'Economia a Governo Monti, è stato Capo della Divisione Banking Europa, Medio Oriente e Africa della JP Morgan. Carlo De Benedetti, Patron del Gruppo Espresso e Repubblica, è membro del Consiglio di Sorveglianza della Rothschild. Claudio Costamagna, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Luisa Todini, Presidente delle Poste Italiane, è membro del Consiglio di Sorveglianza, Rothschild, Rothschild, JP Morgan, Goldman Sachs, LASAR, Morgan Stanley, tra l'altro quasi tutte si sono espresse a favore del sì al referendum. Ecco, questo è il sistema che contrasta il Movimento 5 Stelle. Io sono fiero di far parte di una forza politica dove ci sono colleghi eccellenti come colleghi della Commissione Finanza e che non ha paura di fare i nomi e più faremo i nomi, questo lo sappiamo, più arriveranno da qui alle prossime elezioni politiche degli attacchi nei nostri confronti sempre più alti, ma più sono alti gli attacchi più vedo che evidentemente l'obiettivo è vicino. Perché abbiamo citato anche Mario Draghi? Perché noi rifiutiamo questa scadenza del 31 dicembre, la rifiutiamo, perché non ci possiamo fidare di chi è così legato a Goldman Sachs, una banca che ha di fatto anche sostenuto appunto le riforme costituzionali di Renzi, un presidente della BCE che quando era a capo della Banca d'Italia appunto disse avanti con l'operazione di acquisizione di Anton Veneta da parte di MPS, 9 miliardi di euro vanno bene, 9 miliardi di euro ha speso MPS e la banca ne valeva 3. E quella è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché in realtà le responsabilità politiche del Partito Democratico, della fondazione MPS, gestita di fatto dai grandi istituzioni gestite e poi governate dal Partito Democratico sono anche precedenti. Gli amici degli amici finanziati, l'utilizzo di una banca storica, la terza banca d'Italia, per fare campagna elettorale, per garantire al partito la possibilità di fare voto clientelare. D'altro canto il Partito Democratico è quello della frittura di pescecrazia di De Luca sotto indagine in questo momento. Su MPS non prendiamoci in giro, le responsabilità di una parte della politica della sinistra, romana e senese, sono enormi. Chi l'ha detto? L'ha detto Alessio Villarosa? Chi l'ha detto? L'ha detto Daniele Pesco? L'ha detto Matteo Renzi, il ventriloco Renzi, perché tutt'oggi parla lui, è un ventriloco Renzi, parla lui, cioè non muove la bocca, la voce l'ascoltiamo da gentiloni, ma chi parla è Renzi. Il ventriloco Renzi disse che la responsabilità era del Partito Democratico e che cosa ha fatto in questi anni di governo il Partito Democratico e MPS? Si è occupato o no? Certo che si sono occupati. Hanno fatto delle manovre che hanno fatto arrivare a dire a Renzi qualche mese fa, oggi MPS è risanata, investire è un affare. Ve lo ricordate o no? I giornalisti qui presenti se lo ricordano o no? Questa frase. Ecco, da allora i titoli di MPS hanno perso il 60%, cioè coloro che si sono fidati del Presidente del Consiglio e ci hanno messo 10 euro ad un'azione ne hanno persi 6 su 10. Ma questo, diciamo delle menzogne, possiamo avere anche riconosciuti i meriti di questa forza politica che non ha mai avuto il timore in Parlamento, nelle conferenze stampa, nelle piazze, di affrontare veramente con forza il problema principale, ovvero che le banche si sono infiltrate nei partiti politici, trasformandoli di fatto in banca. Qual è oggi la differenza tra il PD e una banca? Me lo dovete dire. Il PD, come a molte banche, gestisce in maniera torbida i nostri soldi, che fino hanno fatto i quattrini di finanziamento pubblico a partiti, come che fino hanno fatto tanti quattrini di risparmiatori messi nelle banche che spariscono? Stessa identica cosa. E come molte banche piazzano prodotti tossici, prendendo in giro i cittadini, così il PD ha piazzato delle leggi prodotti tossici. Il Jobs Act è un prodotto tossico, il Movimento 5 Stelle farà una battaglia enorme sul referendum e non permettiamo che Padoan utilizzi la possibilità di un referendum, cioè uno strumento di democrazia per bloccarne un altro, diciamo per i propri interessi legati alle elezioni politiche. È ignobile questo comportamento, perché hanno paura di cittadini anche sul referendum sul Jobs Act. Il PD come una banca ha piazzato dei prodotti tossici, le riforme costituzionali gliel'abbiamo bloccate, il popolo italiano con un contributo senz'altro ottimo del Movimento 5 Stelle. Oggi noi non ci possiamo fidare di questa gente, per quello proponiamo di andare al voto il prima possibile, perché come toccheranno la legge elettorale rendendo una legge elettorale peggiore di qualsiasi cosa soltanto per andare contro il 5 Stelle? Per quello noi proponiamo appunto di aspettare la sentenza della Corte Costituzionale, così vogliamo affrontare, rifiutando la logica del 31 dicembre imposta di fatto da Mario Draghi, cioè da quello che disse all'MPS comprate Anton Veneta, creando uno dei tanti buchi enormi di questa banca. Non ci possiamo fidare, non possiamo accettare questa scadenza e dobbiamo andare al voto il prima possibile per occuparci con delle proposte serie di MPS appunto che indirizzate sulla nazionalizzazione. Perché gli stessi soggetti che hanno mentito rispetto alla banca risanata, Matteo Renzi investite, oggi il titolo è sicuro, investite, investire in MPS è un affare. Gli stessi politici che hanno gestito MPS negli ultimi vent'anni utilizzandolo appunto per i propri favori elettorali. Gli stessi partiti politici che si sono lasciati infiltrare dalle banche d'affari che oggi di fatto ne determinano le linee politiche. Perché questo Parlamento quanti provvedimenti ha fatto sulle banche? Quanti? 10? 15? Quanti provvedimenti? Secondo voi questi soggetti con Gentiloni e con il governo Copia e Incolla con Renzi di Ventriloquo risolverà nei prossimi mesi il problema di MPS? E soprattutto non vi indigna, mi rivolgo chiaramente a chi fa giusta informazione, il fatto che questo stesso governo, perché è lo stesso, durante la campagna, negli ultimi mesi al posto di occuparsi di una questione decisiva per il Paese MPS, i risparmiatori, la tutela dei risparmi, un territorio massacrato, anziché occuparsi di quel tema che era chiaramente diciamo prerogativa del governo, siano andati in giro a destra e a sinistra a fare campagna referendaria, propaganda fallimentare per un referendum senza occuparsi di questo tema e oggi ci dicono che entro il 31 dicembre bisogna sbrigarsi, bisogna fare un decreto, chissà come lo faranno e magari questo decreto viene anche utilizzato, cioè la minaccia del decreto che andrà contro il risparmiatore viene utilizzato dal management di MPS, il lapsus freudiano, dove chi è l'amministratore delegato? Non è un tal Marco Morelli che proviene da JP Morgan, non è stata la JP Morgan la stessa che scrisse nel 2013 che le costituzioni della Repubblica italiana, delle Repubbliche dei Paesi del Sud dovevano essere cambiate e a chi ha fatto l'endorsement a Renzi sul referendum costituzionale, non è JP Morgan anche di fatto, dico una cosa troppo forte, ma non ha di fatto JP Morgan spinto la nomina dell'amministratore delegato di MPS? Detto una cosa che non dovevamo dire, l'abbiamo sempre dichiarato, esatto, a voglia, esatto, le telefonate, questo è un dato di fatto, quindi il Movimento 5 Stelle spera di poter andare, questa è la nostra battaglia, il voto il prima possibile, domani saremo a Siena con un flash mob, ci interessiamo delle questioni importanti a tutela del risparmio e non ci fidiamo del Ventiloco Renzi, del governo Argentino Unicopa in colla del Renzi, del governo Renzi, dello stesso Mario Draghi che ha le sue responsabilità tirate fuori da una lettera, abbiamo i documenti rispetto all'acquisto fallimentare di Anton Veneta, ci possiamo fidare di queste persone? No, per cui ci auguriamo di andare al voto il prima possibile per riuscire a nazionalizzare appunto MPS perché vi dicevo e concludo, oggi anche i pezzi grossi di MPS collegati quindi alla JP Morgan utilizzano la minaccia di questo decreto e quindi questa data del 31 dicembre magari per spingere dei risparmiatori che hanno acquistato delle obbligazioni subordinate che non sono soggetti abituati a rischio, magari a trasformarle volontariamente in azioni appunto di MPS con il rischio che da qui, considerando di numeri degli ultimi anni, continueranno a perdere appunto il valore di queste azioni stesse. Questo è il Movimento 5 Stelle, io sono fiero di far parte di questa forza politica. Grazie.